Un fronte freddo dall'Europa centrale e dall'arco alpino ha fatto ingresso in questione sulla nostra penisola, rinnovando condizioni di stabilità nelle zone interne dell'Italia centro-settentrionale e anche sulla nostra regione. In Toscana, giovedì 4 luglio, sereno, poco nuvoloso, con sviluppo di nubi pomeridiane nelle zone interne sui rilievi, dove non si escludono brevi ed isolati rovesci. Venti deboli di brezza, mari in bossi, con moto ondoso in attenuazione, temperature minime in leggero calo e massime in lieve aumento, con punte al più di 30 gradi. Sul territorio provinciale, cielo sereno, poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 18, massima 29 gradi. A Castelnuovo-Garpagnane, zone montane, minima 15, massima 28. A Biareggio, sul litorale, minima 19, massima 27 gradi. Venerdì, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento.